Ciao a tutti, sono Valentina Lundari, ho 24 anni e sono una pretana. Ho frequentato l'Istituto Professionale di Moda, dove disegnavo il cuscino e gli abiti che avrei indossato io stessa. Una delle mie tante passioni? La cucina. Ho un armario ricco di oggetti utili per fotografare il cibo, che collezioni molto in volta e che nessuno deve toccarli. Il mio punto forte? Lo shopping online. Fatto. Ah, dimenticavo. Sono pigra. Pigrissima. Perché sono un influencer? Beh, questo non lo so. Chiedetelo a chi mi segue.